ciao ragazzi benvenuti noi facciamo un video a sorpresa oggi non so che cos'è questo è un pacco che ci è arrivato dalla lisciani c'è scritto vabbè tu non sai leggere non ce lo riconosco la riconosci il simbolo tanto oggi facciamo un semplice unboxing per vedere cosa c'è dentro cosa c'è stato inviato grazie alla lisciani vediamo tirami tirami qua no no che il taglierino lo uso io dammela a me quel pacco dai dammi questo pacco qui aspetta che faccio oissa così tolgo questo e poi l'ho aprito vogliamo un po' un bel pacco fatto bene più che fatto bene proprio su oh ho distrutto la telecamera no no no? no no forse se l'aprissi così era più facile vero? eh 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 se l'avessi aperto così sarebbe stato più facile vabbè dai ecco qua eh beh sbirciamo sbirciamo ooooh vediamo un po' niente niente sorpresa per l'oretto vediamo cosa c'è dentro tieni apri e fai vedere cosa c'è dentro cosa c'è? tira fuori tira fuori mamma che grandissimo attento che se c'è fai vedere questo è il nuovissimo gioco oh mamma attenzione habitat ed ecosistemi riproduci un vero ambiente naturale osserva come si sviluppa la vita questo deve essere super super fighissimo poi ci giocheremo e vi faremo vedere in un video com'è ciao ragazzi ciao